Signori benvenuti in una nuova puntata della Let's Technique 4 Allora ragazzi nella scorsa puntata abbiamo fatto un po' di roba della Blood Magic Abbiamo fatto un po' di cose in generale Ovviamente ragazzi non faccio ogni volta il riassunto perché tra una puntata e l'altra passa un po' di tempo Quindi diciamo che tendo a dimenticare spesso che cosa faccio nelle puntate precedenti Quindi cosa dobbiamo fare oggi? Innanzitutto ovviamente andare avanti con le quest Qua ho bloccato tutto perché raga con questo coso di energia, con il coil Stiamo alimentando per appunto il Blood Agonizer Che praticamente ora mi genera 840 millibucket di sangue a processo Perché praticamente abbiamo il zombie data model self-aware Quindi tipo mi sono messo qua, ho fatto anche questa Clever di Smeraldo Infatti fa 13 di danno C'è anche AST a livello 3 se non sbaglio Possiamo mettere degli altri ma ovviamente dobbiamo aspettare ad avere i cosi, no? I modifier, c'ha looting, c'ha una modifier di sharp, c'è di quarzo E abbiamo tutte queste reinforced slate Che sono buone come il pane Sono tanto 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 buone Perché comunque quando dovremmo fare delle Arcane Stone O come cavolo si chiama, delle Runestone, bla 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 Possiamo farle tranquillamente Allora, io volevo fare, volevo aumentare Ecco questo Perché ogni volta non capisco da dove arrivano i mostri Perché ho i volumi troppo bassi Io penso che siano più lontani del normale Invece no Tra l'altro anche il volume delle cuffie è abbastanza basso Ah, cazzarola Danno un po' fastidio queste cuffie Però sono utilissimi Utilissime Utilissime Tra l'altro abbiamo 2048 di Stone Che mi permette di fare un bel po' di Ash and Stone Però vabbè raga, non mi serve adesso Adesso faremo dell'altro Allora, controllando le quest ragazzotti Abbiamo due possibilità O procedere attraverso la Towncraft La Blood Magic Raga Potremmo procederci Però tipo dobbiamo ignorare alcune quest Tipo questa la possiamo ignorare Questa la possiamo ignorare Sono della botania Poi Questa della Blood Magic La possiamo ignorare Perché comunque Sono degli strumenti Che si che ti agevolano Per poter ottenere del sangue Ma tramite il Mob Agonizer Abbiamo visto che facciamo tanto sangue Quindi non abbiamo Non ha molto senso fare un amuletto Che comunque Se viene attaccato Attacchi Mob E praticamente ottieni del sangue Nell'altare Quindi non ha senso Diciamo andare a farlo Poi La Runa del Self Sacrifice La Runa del Self Sacrifice Non è vera l'utilità Perché comunque Abbiamo le Rune del Sacrificio Che ci fanno ottenere Tanto tanto sangue Sempre attraverso il Mob Agonizer Quindi molto molto utile Questo add-on Della cosa Della Deep Mob Learning Per quanto riguarda Quest'altare Io non ho la minima idea Di a cosa serva Perché Allora Andiamo a leggere la guida Prima di tutto Abbiamo bisogno di costruire Un altare per l'incenso Nessun Niente Cioè niente funziona Senza ovviamente L'altare Beh certo Quello era abbastanza scontato Allora L'altare dell'incenso Va Su un quadrato 3x3 Di altre cose Che cosa sono Non ha importanza Da qui in avanti Ogni Direzione cardinale Aggiunge Affiurro Cioè Aggiunge diversi tipi di Diciamo Boh Non lo so Di modalità Boh Di passaggi In realtà Quello di legna Che è praticamente Lungo 3 blocchi Davanti all'altare Aumenta del 60% La stone 2 Praticamente 2 passaggi Oltre 2 blocchi Oltre La legna Aggiunge Un altro 60% Arrivando al 120% La worn stone Che vale 2 blocchi Oltre La stone normale Arriva al 200% L'ossidiana Due blocchi Che praticamente Arriva al 300% Ci sono 7 categorie Di tranquilliti Che possiamo ottenere Questi blocchi Vanno Nelle stesse Coordinate Y Y Diciamo Di quei passaggi E Ovviamente Vanno Due Livelli Arrivano A due Livelli Alti Di altezza Quindi Praticamente Se lo facciamo Di tre blocchi Di altezza Non Aiuta Quindi Mischiare Ovviamente Le categorie Mischiate Le categorie Ogni Cioè Praticamente Mischiate Più che potete Ma Non mettete Diciamo Cioè Per esempio Se noi mettiamo Una cosa Che porta Al massimo Una sorta Una categoria Ben precisa Non possiamo Mettere una Che magari Tipo Aggiunge Tipo Il 10% Rispetto a quella Che aggiunge Il 20% Perché tanto Non è che Otteniamo Il 30% Ma otteniamo Sempre il 20% Crop Le patate Le carotte Il grano E le nether wart Danno lo stesso bonus Ovviamente Utilizza il tuo Favorito Erten Le farmland Sono le migliori Fortunato Vabbè Ti dice Quale utilizzare Ovviamente Per fare La tranquillità Il fuoco Ovviamente Attualmente Il fuoco Funziona Funziona meglio Qui Ovviamente Accendilo Con la netherrack Che dà Ovviamente Bonus Anche la netherrack La lava Ovviamente Si spiega La sola Le piante Le foglie Ovviamente Tieni lontano Dal fuoco E dalla lava Gli alberi I logs Sea above Ah ok Sì vabbè Ovviamente Tieni lontano Dal fuoco La life essence Invece A livello Dell'acqua È il tuo migliore Amico L'ultima nota Usa il sigillo D'administrazione Per vedere Quanto è Il bonus Il numero Sotto la percentuale Vabbè Ragazzi Non so che cosa Alla fine Non so niente cosa serve La tranquillità L'incense altar Non ho La più pallida idea Comunque Procediamo Verso L'alchemy table Invece Che verso La Come si chiama Quindi per fare L'alchemy table Abbiamo bisogno Di 3 gold Road 2 mana Steel Vial E 3 Arcanestone Quindi Molto molto Semplice Facciamo Restonia Che non ho Facciamo 16 plate Di restonia Non so se Mi possono Servire Un'altra Volta Però Meglio Farne Meglio Abbondare Che difficile Anche perché Comunque Abbiamo Abbiamo Materiali Veramente In maniera Non Elevata Però Diciamo Che almeno Non 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 Deficitiamo Di Materiali Allora Non so Perché Il Lopper Non funziona Quindi Andrò A provare Con i Conduit Ah Però Qua c'è La Gear C'è La Plate Allora Dobbiamo Fare Le Cosi Delle Le Plate Per fare Le altre Cose Nella Nella Metal Press Quindi Scendiamo Giù Se Non Erro Allora Qua stavo Cambiando Tutto Quindi È normale Che Manchino Un po' Di Cose E Qua Devo Tappare Tutto Ragazzi To Papale Papale Allora Vacuum Tube Copper Plate Le Abbiamo Abbiamo Bisogno Delle Steel Plate E Delle Engines Wire Cutter Quindi Facciamo Wire Non ho Wire Cutter Seriamente Ma mi pare Strano Guardi Ho Bevuto Un Prosecco E Basta Comunque Facciamo Delle Steel Plate Mettiamo Pure Così Facciamo Così Non è Che Ah no Me l'ha messo Di nuovo Ok Perfetto Buono 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 E poi Ovviamente Ci serve Blueprint Quello Per Le Metal Press Mold Che Vuole Una Steel Plate Più Quelle Cose Là Tanto Dov'è Questo Qua Ok Ovviamente Non ci Mancano Thank You Questo Togliamo E mettiamo Questo Ok Quindi Facendo Così E Così C'è Il Metal Press Mold Packing Che non Ci Interessa Quello Della Plate Interessa Quello Della Plate Quello Delle Rod Quello Dei Cavi E Basta Perché Quello Della Gear L'abbiamo Già Fatto Quindi Andiamo Tranquillamente A buttare Il resto Qui Dentro Quindi Dopo aver Fatto Ciò Andiamo Fuori Sono Curioso Di sapere Come funziona Veramente La La Uncrafting Table Solo che Boh Non L'ho Capito Bene Non Ne ho Idea Allora Facciamo Prendiamoci Due Chest Una La mettiamo Qua E una La mettiamo Qua Qua Mettiamo Le Press Le Mold Press Come Qua Mettiamo Questo Facciamo Questo Modo Estrae Senza Segnale Di Redstone Ed Inserisci Vediamo Ok Così Funzia Prendiamo Prendiamo Una Restonia Plate Thank you So Much Andiamo A buttare Questi Teconduit E andiamo A vedere Come si Fa L'alchemy Table Le Gold Road Le Gold Road Quindi Facciamo Gold Sì Ovviamente Se Prendiamo Il Gold Da Qua Buttiamo Qua Come Si è Messo Togliamo Pure La Questa E mettiamo Questa Allora La cosa Intelligente Da fare Sarebbe Quella Di Comunque Andare a Farne Tantissimi Di questi Cioè Tantissimi Andarne a Farne Quattro Diversi In modo Che Comunque Si possa Automatizzare Questi Processi Andiamo A buttare Queste cose Che non Ci servono Facciamo Alchemy Table E lo Mettiamo Da questa Parte Questa cosa Possiamo Togliere Infine Vediamo Cosa Ci manca Ci manca L'Arkane Stone Che stranamente Non ce l'ho No Aspetta Dovrei Averne Da questa Parte Vediamo Mi sembra Che comunque Ho lasciato Un po' Di Infatti Grazie Mille Le buttiamo Pure qui Dentro Mentre Il mana Glass Comunque Si ottiene Tramite Il glass E un po' Di mana Ah Perfetto 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 Quindi Togliamo pure Il crafting Uno e due Thank you Alchemy Table E ce l'abbiamo Ora Con l'Archemy Table Probabilmente Potremmo fare Alcuni crafting Che ci servono Per andare avanti Con Tipo Per fare Il tier 3 Del blu Daltar Che non sarebbe Male Perché così Tramite A crafting Possiamo fare Più Sangue Tramite Il Mob Agonizer Allora Lo spark Augment Non mi interessa Perché Comunque Sia Raga Gli spark Non mi servono Adesso E ci dice Di passare Dalla Towncraft Perché vedete Il tier 3 Blood altar E bloccato Dalla Towncraft Essenzia Smelting Ci serve L'Alembeak L'Alembeak O come cavolo Si chiama E l'Essenzia Smeltering On top Of With A feeling Transfuser And after Place Some jar Nearby You start To see Essenzia Feeling Them Questa versione E' il 90% Efficiente Con il resto Che viene Trasomato Nel flux Lo scarto Può essere Abbassato Attaccando Uno On the side Ok Proviamo a vedere Come si crafta Abbiamo bisogno Di un Essenzia Smeltering Che vuole La runa Del fuoco E probabilmente Ci farà sprecare Purtroppo Allora L'Unchemy Table Io lo poggerei Anzi 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 Andiamo Dove c'è la Blood Magic Mettiamo Le cose Della Blood Magic Dove sta La Blood Magic Ecco Così Perfetto Poi Ritorniamo Nel magazzino Nel magazzino Nel magazzino Possiamo buttare Anche questo Lava Bucket Qui Prendere Prendere delle pizze Perché C'ha fame Purtroppo Ah si chiama Domino Spe Una vaffanculo Mi stavo spaventando Ho detto ma Non è che mi sono spariti Degli oggetti Ok Quindi Ci serviva Cos'era La Non mi ricordo Non mi ricordo Assolutamente Allora Facciamo Così Questo Togliamo Poi Facciamo così E questo Lo mettiamo qua Quindi Andiamo a controllare Assieme Cosa ci serve Ci servono Delle Taumium plate Non so se ho Del taumium Si ne ho 7 Quindi 1 2 3 4 5 Andiamo pure A fargli fare Le plate Di taumium Perfetto Col Metal Press Diciamo che La cosa è Molto più Comoda Vediamo se No 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 Pezzo di merda Porca Puttana Allora Fammi vedere Se posso Recuperarle No ma Porca Miseria Oh Per fortuna Mi rimangono Due taumium Così Per fare Delle plate Ma Porca Miseria Ragazzi Mi fa Gile Le scatole Oh Ok Abbiamo 5 taumium Plate Poi Due brass Plate Ci servono Uno e due Poi vediamo Cosa ci serve Un essential smelteri Che ne vuole Altre due Allora no Scusa Brass Quindi Ne vuoi Altre due La living rock Un crucible Un crucible Vediamo Se è possibile Farlo Ah E quello Si Allora Towncraft E mi serve Il cauldron Se non sbaglio Si chiama Non Crucible Il crucible È quello Della Della Come si chiama Non mi ricordo Il nome Ok Abbiamo Il crucible Le brass Plate Poi mi serve La fire Runa del fuoco La living rock Qui dovremmo avere Quasi tutto Allora Questo Ce l'abbiamo Poi Vediamo Che è questo La Dawnstone gear Si Vabbè Adesso Non mi Crea Nessun tipo Di problema Comunque Steel Sheet Metal Ora Steel Sheet Metal Mi sembra Che ne ho Però non mi ricordo Quanti ne volesse 8 Ok Quindi facciamo così Facciamo 1 2 3 4 1 E 2 Questi li buttiamo Qui dentro Anche se li avevo Presi per fare Essenzia tube Quicksilver Drop Che bello Che bello Quicksilver Non penso di averne Ah no Ne ho una Ok Thank you Però non avrò Bisogno di Altre Santa pazienza Allora Silverwood Ce l'ho Ok Andiamo a Prendere Un bonsai pot Questo qua Va bene Tanto abbiamo 3000 Di legna Del Del coso Quindi Non credo Che Ci serva Per forza Allora Facciamo così Mettiamo qui Monsai pot Dirt Silverwood E acceleriamo Un attimino Ok Altro Quicksilver Dammi un altro Un po' Per favore Un altro Dammi un altro Dammi un altro Un altro Ok perfetto Lo lasciamo andare Un po' Allora Andiamo a vedere Cosa ci serve Ci servono Due iron plate E una brass nugget Quindi facciamo Brass Facciamo così Brass nugget Iron plate Vedete di farti fare Un bel po' Di plate Di ferro Perché comunque Ci servono Vai Perfetto E andiamo a vedere Cosa ci serve Allora Oltre a questo Il glass Il glass Il glass Malefico Ok glass Ne abbiamo Anche le plate Ce le abbiamo Andiamo a vedere Il resto Essenzia tube Le possiamo fare Quindi Questo vuole Una leva Ne facciamo 16 Non so Quante ne voglia 6 Più Le planks Di grit food Più Dawnstone Togliamo Ovviamente Quel coso Che fa Le plate Togliamo Il ferro Mettiamo Il dawnstone E prendiamo Quello che fa Le gear Bim E bim Ok Andiamo a riprendere Quello che fa Se ce la faccio Quello che rifà Le plate Togliamo Questo E mettiamo Questo E gli facciamo Fare un po' Di iron plate Come prima Quindi Dobbiamo andare A prendere Quel coso Della towncraft Perché veramente Raga Io Di avere Questa cosa Qua Mi fa Mi altera I sensi Mi dà Un fastidio Assurdo Allora Dormiamo Perché la notte Non è bella Thank you so much Ah Cosa sta succedendo Andiamo a mettere La crafting table Della towncraft Anche qui Va bene Mettiamo pure Queste cose E andiamo a fare L'essenza smelteri Che dovremmo avere tutto Uno E ovviamente Ci serve L'alchemical Construct Ok Prima di fare L'alchemical Construct Ovviamente Ci servono I tubi Quindi Prima di tutto Bene Facciamo 24 Oltanto Non è Un problema Poi Di questi 6 Non provare a usarli Tutti i cavi Se non ti ammazzo E E per tutto il resto Ce l'abbiamo Ok Perché c'ho questo Nell'inventario Porca miseria Allora Così Così E infine Questo Andiamo a vedere Cosa Come va costruito Ok Negli angoli Vuole Il sheet metal Quindi così 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 E così Poi Mamma mia Allora Facciamo così Almeno ce l'abbiamo A disposizione Poi Questi Dovrebbero essere Tubi Normali E qui Dovrebbero andare Questi qua Perché sono 6 No Gigio Piazzami questa Ecco bravo Facciamo così Oh e dai Oh e dai Perché non Ah perché Più Devo mettere Questi Ok Così Perfetto Infine 1 2 3 E 4 E 4 Poi Buttiamo Buttiamo Niente Perché io me la sono Dimenticata lì Come un deficiente Ho fatto anche la rima Grazie Cioè ho mancato La zona di multiblocco Perché non funziona Eh Scusa Allora Questo va verso L'interno L'altro Non sto Cappello Sono tutte Verso l'interno Ed è giusto Ah no Dimmi che Perché devono Andare verso L'interno Perché Veramente Così Così E così Ma Allora Questo va Verso L'esterno Questo va Verso L'interno Shit metal Qual è Ah Mi mancano Dei tubi Vanno messi Così Fanculo Ecco perché Questo Così Mi mancavano Giusto Ok No Non riuscivo a capire Cosa mancasse Ok Thank you So much Quindi ci mettiamo qua E possiamo ottenere Finalmente Cosa Te ne servono Degli altri Crystal Alla Fire Eh Ignis Si chiama Ignis Ok Adesso posso farlo No Qual è il tuo Problema Punto di domanda 250 Di Vis 179 Available Ragazzi io non me la ricordo La Towncraft Veramente Cioè ma Oh Ragazzi mi dice 179 Available Io purtroppo Non saprei come Come dargli il vis Perché io non mi ricordo Assolutamente come Come funzionava Questa cosa Perché ragazzi Quanto sto notando Non c'è neanche la Wanda Della Della Towncraft Perché Allora Solitamente la Towncraft Aggiungeva Aggiungeva La La Wanda No La Come si chiama Quella Per gli incantesimi Però Sto notando che Non c'è Effettivamente Cioè per fare il vis Io come cavolo Posso fare Scusa No ragazzi Boh Non capisco Perché Allora addirittura Mi ha detto Guardate che il vis Lo trovi Nella Diciamo Nei Silverwood Tree No Però Però Non ne ho trovato Cioè Non Non ho trovato Non il vis C'era l'orb Diciamo Che dava L'energia Della Towncraft Ora non mi ricordo Come si chiama Il nodo Ecco Il nod Però Boh Non so Perché Non Cioè Non ho idea Di come Come aumentare Il vis Allora ragazzi C'è anche questo Vis generator Ora voglio provare A vedere A prendere Tutte queste cose Voglio proprio Vedere se fa Ah ok Cioè Questo sta generando Del vis Ne posso Craftare un altro Scusa Mi serve Del quarzo Ehm Boh Magari Tipo Così Riusciamo a farne Ah Vaffanculo Lui genera Energia Tramite Il vis Ma va Ma va Vaffanculo Pensavo Che Ah Raga Proviamo Invece A cercare Allora Questa roba Non mi serve Allora Proviamo a cercare Invece Ehm Un altro Silverwood Magari tipo Vicino A un silverwood Riusciamo A generare Più vis Però ragazzi Io non devo andare A tentative D'errori Ogni volta Cioè Mamma mia Oh Veramente Mi fa girare Le scatole Questa cosa Allora Qua c'è un silverwood No Se lo faccio così 239 Ok Quindi In teoria No Non ci arrivo Perché vuole 250 E noi ne abbiamo 239 C'è Ma sei serio Ragazzi Io ci sto combattendo Da tipo Tutta la mattina E in più Ovviamente Ci sto combattendo Anche il pomeriggio Tra l'altro La webcam È un attimino In ritardo Quindi Direi di Riavviarla Un attimino Facciamo così E così Ok Dovrebbe essere a posto Non mi sembra Perché Scusa Puoi vedere No Sembra Strano Ok Ogni tanto Mi da problemi La webcam Sarà Perché Non lo so La dovrei cambiare Comunque Ci sto combattendo Da un po' E Abbiamo Un 243 Divis Non so Per quale motivo La cosa Non va più Del Di 243 Comunque Con 243 Possiamo fare Leggiare Per l'appunto Della Della Towncraft Non so Se c'è una quest Che riguarda Leggiare Non Sembrerebbe Di no Allora Qua ci Servi Taumium Essenzia Smelteri Allora Qua c'è L'Essenzia Smelteri E cos'è Che ci manca Ah I 250 Divis Porca Miseria Allora Ma Scusa L'Essenzia Smelteri Così In teoria Dovrebbe funzionare Comunque Essenzia Poi ci sono Essenzia Tube Quelli con La Col filtro Interessante Questi sono Molto 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 Utili No Questo è Il buffer Questo è Il filtro Il Filtered Ok Quindi se noi Tipo Colleghiamo La Giara Al Non era Lui Ma Se non sbaglio Alla Lembic Che era Una cosa Del Comunque Un crafting Della Della mod Vuole 50 Più L'acqua Vis Crystal Vuole 4 gritwood Planks 2 Essenzia Filter Che vuole Le silverwood Plank Allora Silverwood Ne dovrei avere Perché comunque Siamo andati a buttare Giù un paio Di alberi Poi mi serviva Allora Vediamo un po Filter Se non sbaglio Era No Towncraft Vediamo Dov'è Dovrebbe essere Dovrebbe essere Fassi io l'orecchio Dovrebbe essere Questo cosino qua Essenzia filter Ok Due gold Angot Così 1 e 2 Quindi Questo è abbastanza Semplice Tra l'altro Dovremmo avere Comunque Tutta l'essenza Che ci serve Infatti è così 223 Adesso ne sta usando Boh Però Strano Molto strano Oltre 234 Non sale Proviamo tipo Ad accelerarlo Un attimino No Non cambia niente Non cambia Niente 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 Rimane uguale Comunque L'essenzia Sale piano piano Però Vabbè Comunque Ci mancano Le brass plate Che abbiamo E poi Le great wood planks Quattro E infine Un secchio Quindi molto molto Easy da fare Thank you so much Vediamo se questo Almeno Lo possiamo fare Penso di si Ok Ci usa un bel po' Di coso Questo messo qua Dovrebbe permetterci Con il coal E qualsiasi oggetto Di praticamente Smeltare Qualsiasi oggetto E ottenere Le varie essenze Tipo Andando a fare Glass Altro glass E altro Con altre slab Possiamo ottenere Altreggiare In questo modo Quattro giare Perfetto Quindi queste Le buttiamo Qui dentro E con gli essenzie A tube E spostando Ovviamente Possiamo spostarci Anche così Non è un problema Uno Due Tre E quattro Dovremmo poter Ottenere Diverse Essenze A seconda Dell'oggetto Che ovviamente Andiamo a buttarci All'interno Per esempio Se noi Buttiamo Della redstone Dovremmo poter Ottenere Solamente La Potenzia Come vedete Ah Per vedere Ovviamente Google Se non sbaglio Per vedere Ovviamente Le cose Che mettiamo Qui dentro Perché Scusa Possiamo usare Google Of revealing E come vedete Praticamente Stiamo ottenendo Potenzia E sta andando Qui dentro Ora Non mi ricordo Quanta è la capacità Di una jarra Se non sbaglio Era 64 Comunque In ogni caso La redstone Ce n'è da 10 Qua si riempie Ci mette un bel po' A riempirsi Però vabbè Sti cazzi Possiamo togliere Anche la redstone Piano piano Mi riempirà Comunque qui 9 Perché non va avanti 10 Or su dunque 11 Eccetera Eccetera Perfetto Quindi Poche parole Questo serve Per essenzialmente Ottenere Dell'essenza Dagli oggetti Cosa che poi Andremo ad utilizzare Con L'altare Diciamo Il matrix Della Towncraft Che è un oggetto Abbastanza carino Dove si fanno Le infusioni E Praticamente Riesci a fare Anche altri Crafting Allora Qui ho ottenuto Un altro livello Quindi Qua abbiamo No Dovevamo andare Verso qui Perché qua Ci da il 15% Ed è questo Quello che ci interessa Cioè Praticamente Andiamo ad ottenere Un 20% Di esperienza In più Mentre qui Abbiamo comunque Un 4% Di Effetti Dei perks Poi andiamo Un attimo giù Voglio vedere Come Ah questo Questo possiamo Prenderlo Questo possiamo Prenderlo Questo no Questo si Possiamo arrivare Da qua Vabbè Si raga Poi Piano piano Ovviamente Faremo tutto Comunque Raga Per il momento Io mi va Cioè Vorrei chiudere La puntata Così Nella prossima Vi dico Già Cosa faremo Andremo avanti Con la Immersive Perché comunque L'Immersive Ci serve A prescindere Perché per fare L'arc Furnace Cioè Per fare Andare L'arc Furnace Comunque Ci serve L'energia E quindi L'energia La otteniamo Dal diesel Generator Probabilmente Poi non so Perché mi faccia Fare l'escavator Sinceramente 4k Ma non Andrà mai Cioè Non finirà Mai Gli ors E Questo potrebbe Essere interessante Però il problema È che Questo vuole Come si chiama Vuole per forza Di cose La Non mi viene Il nome Vuole 4k Di energia Quindi per forza Dobbiamo fare Il diesel Generator Più che altro Voglio andare avanti Qui E fare Ovviamente Tutte queste cose Che mi interessano Perché Praticamente Qua Avremo La distillation Tower Il diesel Generator L'arc Furnace Con la distillation Tower Possiamo Ottenere Tramite Il Il Coso L'olio Se non sbaglio Il petrolio Possiamo Ottenere Oh Gesù Abbiamo bisogno Di 5 Pumpjack Nell'olio Nel petrolio Per Praticamente Dare Energy Cioè Riuscire a Andare avanti Una distillation Tower Un caraga Per il momento È tutto Io solamente Ci vediamo Alla prossima